Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Renzo Barbera di Palermo Un cordiale buonasera da Daniele Fortuni e da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni e Mariano Zuccare è pronto a raccontarvi, sono pronti a raccontarvi lo spareggio semifinale playoff, potremmo definirlo così per l'accesso al mondiale della Qatar trolle nazionali di Italia e Macedonia del Lord Grandissimo clima a Palermo, grandissimo clima alla favorita praticamente il tutto esaurito, più di 34.000 spettatori sugli spalti per un incasso di 450.000 euro ci si gioca la possibilità di andare a disputare un'altra sfida con una tra Portogallo e Turchia due nazionali che si sfideranno questa sera in contemporanea alla partita degli azzurri campioni d'Europa per capire chi tra queste quattro nazionali andrà a giocarsi il mondiale in Qatar i prossimi mesi di novembre e di dicembre c'è una grandissima attesa, come detto il colpo d'occhio a Palermo è magnifico la giornata, anzi la serata è assolutamente priva a venire ci sono 1500 tifosi giunti dalla Macedonia per sostenere i loro ragazzi i ragazzi con la maglia gialla e rossa hanno fraternizzato con i tifosi palermitani già all'arrivo ieri nella serata del centro cittadino insomma un clima splendido come sicuramente potrete dettore e gentili ascoltatori dagli effetti sonori che vi arrivano grazie come detto alla collaborazione tecnica di Federico Foroni e di Mariano Zuccaro maglia azzurra per i campioni d'Europa completo rosso con i chiavi gialli invece per la Macedonia della Nord sguarditesi tra i nostri calciatori evidentemente è una partita importante forse dopo la finale di Wembley a questo punto è la partita più importante della gestione di Roberto Mancini in attesa di quella che potrà essere la prossima in attesa ovviamente di poter partecipare a quello che sarà l'evento del 2022 calcisticamente parlando ovvero sia il mondiale del Qatar attenzione che rubiamo palla Benardi, 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 troppo morbido il tiro non c'era il portiere e questo stramaledetto tiro a giro col piatto sinistro invece di tirare dritti verso la porta col collo con la punta del piede non c'è il portiere il pallone va messo dentro e c'è sempre questo stramaledetto vizio di colpire palla col piatto ha tirato di piatto infatti ha sbagliato non bisogna tirare di piatto bisogna andare di punta o di collo perché la porta è vuota e bisogna fare gol e c'è questa stramaledetta abitudine di colpire il pallone in questa maniera speriamo che i nostri attaccanti si rendano conto che stasera è importantissimo sbattere il pallone in porta attenzione c'è spazio per Barella che avanza al limite cross in mezzo immobile non controlla riesce la difesa della Macedonia del Nord all'allontanare ci aveva fatto un regalo pazzesco il portiere della Macedonia del Nord è proprio così Berardi attenzione ancora Italia con immobile 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 sinistro palla sul fondo c'è la deviazione forse di Dimitreschi c'è il tiro dalla Banderini in favore degli azzurri c'è un'altra opportunità per lui adesso spingiamo forte il piede sull'acceleratore spinti anche dal tipo dei tifosi di Palermo che provano a mandare gli azzurri all'interno dell'area di rigore avversaria insegna dalla distanza parte il tiro in qualche modo in corner Dimitreschi mette il pallone fuori dal perimetro di gioco oltre i suoi palli conclusione maligna da parte del nostro numero 10 con il pallone deviato in corner dall'estremo difensore e della Macedonia della Nord dei difensori della formazione ospiti che ora però fanno fatica all'uscita dall'uno 3-4 attenzione Immobile Immobile al limite Immobile destro ha perso troppo tempo ci riporta ancora una volta si è lasciato recuperare dagli avversari che gli hanno deviato il latiro nervosissimo Roberto Mancini che evidentemente ce l'ha con i propri attaccati adesso perché si stanno sprecando delle opportunità non c'è lucidità non c'è rapidità nella conclusione e questo potrebbe costarci caro Immobile è arrivato al limite ha aspettato un po' troppo per posizionarsi al meglio il pallone sul piede destro la sua conclusione che è stata deviata in corner Lorenzo Insigni riceve il pallone quasi alla vertice Insigni 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 la finta lo scarico a sinistra Emerson che arriva dalla distanza il cross in mezzo il tiro al volo ribattuto Grambinski Immobile destro ancora una volta deviato Giorginio c'è concentrato nel campo Mancini che sbaglia attenzione che parte in contropiede la Macedonia del Nord recupero miracoloso di Alessandro Florenzi con il retropassaggio per Giorginio Donnarumma l'errore di Gianluca Mancini ci stava per costare carissimo e c'è stato il recupero provvidenziale ai danni dell'avversario che era il numero 11 Churlinov che si era avventato su quella traiettoria malamente controllata da Mancini che adesso va a ringraziare proprio Alessandro Florenzi cattura palla a Barella servito Berratti a destra c'è Belardi il pallone per lui Belardi qua sul sinistro si accentra Belardi parte il tiro pallone che sfiora il palo e termina al lato e Domenico Berardi sta prendendo la mira Berratti spinto alle spalle recupera la posizione verticale si mette di fronte all'area serve Berardi si libera Berardi destra pallone sul fondo non è possibile e anche questa opportunità che si era costruita benissimo Domenico Berardi finisce sulle fondo tiro di destro violento era riuscito a farci scivolare il pallone sul tentativo sbagliato d'anticipo Dimos Dio se l'è trovato nella piena area di rigore accalciato di potenza il pallone è finito alto è immobile con un tocco all'indietro però molto rischioso che praticamente restituesce palla agli avversari Berardi in mezzo a due allarga verso il settore di silita attenzione pericolo parte un tiro che finisce abbondantemente alto sulla travesta della porta difesa da Gigio Donnarumma e però nonostante gli applausi del commissario tecnico della Nazionale della Macedonia del Nord certe leggerezze non si devono commettere si Mileschi applaude comunque la Macedonia sta facendo la sua partita lo abbiamo detto non potrebbe fare diversamente sarebbe già un grande successo portare l'Italia alla supplementare ancora di più ai rigori la Macedonia sta facendo quello che deve fare si quello che ci aspettavamo del resto se lo aspettava bene anche Roberto Mancini come sempre profetico grande esperienza nell'interpretazione delle partite avrebbe detto la prima sarà più difficile della seconda ancora Insigne che attacca dalla posizione di alla sinistra poi arriva Emerson in qualche modo ad aiutarlo ma non riesce a controllare il pallone Emerson che lo cattura nuovamente va a servire Verratti Verratti in era di rigore Verratti si gira fuori c'è stata ancora una deviazione il pallone in calcio d'angolo è una cosa incredibile Verratti va a conglaturarsi con Agliowski se non andiamo Errati che è riuscito a deviare all'ultimo momento la traiettoria di questo pallone che era inevitabilmente destinato in porta ma siamo ancora 0-0 pallone in area Tonali che non riesce a tenerla l'invio corto della difesa Macedonia Florenzi di testa poi al limite la conclusione il pallone che finisce sul fondo ci hanno provato gli azzurri e nuovamente Raspadori è andato a concludere sul proprio assist di Emerson Emerson nuovamente un tocchino orizzontale con Verratti che si fa cedere il pallone poi danza sullo stesso cercando di aprirsi uno spazio ma si muovono poco senza il pallone i suoi compagni di squadra questa volta Emerson va via un avversario mette in area Pellegrini sinistro secondo palo c'è la deviazione con la sfera che finisce sul fondo troppo precipitoso Lorenzo Pellegrini avrebbe dovuto pensare di più aspettare 44 minuti e 40 secondi sul cronometro nel corso della ripresa ancora 0-0 il parziale in questa sfida faticosissima faticosissima di Palermo tra gli azzurri e la nazionale della Macedonia del Nord non ce l'aspettavamo sicuramente anche perché poi è vero che l'Italia nel secondo tempo soprattutto ha avuto le conclusioni per passare il vantaggio e basta un dollar poi non ce ne vogliono ci vogliono più più reti per vincere per passare questo primo turno dello spareggio 5 minuti di recupero intanto 45 minuti e 55 secondi sul cronometro nel corso del secondo tempo ancora 0-0 il parziale tra Italia e Macedonia del Nord al Palermo è una sofferenza inaudita gentili ascoltatori intanto Lorenzo Pellegrini prova a muoversi tra le linee con l'esterno della destra a sinistra per Verratti si fa vedere Emerson nuovamente Pellegrini avanza il numero 7 ancora Pellegrini e è di rigore per Raspadori che non capisce l'idea del compagno di squadra e lascia sfilare il pallone sul fondo e questa era sicuramente un'ottima idea si Raspadori andava verso il centro dell'area di rigore e invece Arasoterra dritto per dritto sull'esterno Pellegrini il suo passaggio filtrante si sono capiti in comprensione c'è anche questo in questi minuti finali di confusione per l'Italia che attacca eh sì sono minuti di grande confusione siamo al 47esimo 0-0 il parziale 5 minuti di recupero si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei 5 concessi attenzione al tiro ha segnato la Macedonia del Nord ha segnato la Macedonia del Nord incredibile incredibile un tiro da lontano senza pretese il pallone che è finito in porta in un angolino lontanissimo dramma assoluto e totale alla favorita di Palermo il vantaggio della Macedonia del Nord esattamente al 47esimo minuto io non ho visto nemmeno chi è riuscito a far partire questo tiro assolutamente estemporaneo da una 28 metri pallone nell'angolino più lontano e gol della Macedonia del Nord che è in vantaggio per 1-0 Tarkovsky ha segnato lui con il destro è riuscito a pescare un angolino incredibile una cosa incredibile un tiro di una precisione inaudita gli azzurri protestano perché vorrebbero un fallo di mani da parte di un giocatore Macedone l'arbitro che conferma invece che si tratta di gol è la Macedonia del Nord che è in vantaggio incredibilmente praticamente non aveva superato mai la metà campo la formazione della Macedonia del Nord è riuscita è incredibile a due minuti dalla fine della partita a segnare il gol che darà la qualificazione alla partita con il Portogallo per arrivare al mondiale del Qatar che sembra un'altra volta un obiettivo fallito per gli azzurri campioni d'Europa Portogallo chiude la partita 3-1 sulla Turchia d'accordo d'accordo Maurizio Ruggeri pallone al limite c'è Verratti in possesso di Sfera sul settore di sinistra Emerson ancora Verratti perde il pallone pallone che sta per finire fuori lo mantengono in campo i giocatori macedoni ma corre Giorginio a recuperarlo sono momenti drammatici assolutamente drammatici lancia in profondità di Giorginio c'è Pedro che si alza non riesce a controllare il pallone contropiede della Macedonia della Nord in mezzo a tre avversari termina a terra palli ci sarà calcio di punizione manca un solo minuto stiamo per dare un'altra volta non pensavamo non pensavamo veramente dopo quello che è successo quattro anni o mezzo fa sì spero c'è stato il campionato europeo però il mondiale è il mondiale per tutti quanti per loro per noi per i tifosi per quelli che ci ascoltano per quelli che sono qui stasera allo stadio di Palermo è incredibile è pazzesco perché insomma abbiamo subito un tiro in porta e quel tiro in porta è andato in un angolino è Donnarumma che non c'è arrivato è il pallone che è finito in porta c'è una posizione di fuori gioco c'è l'ultimo assalto disperato degli azzurri a quarantanovesimo e trenta secondi Mancini con le braccia concerte sta per consumarsi un autentico dramma una cosa incredibile Tonali col pallone tra i piedi scalaventa la sfera in avanti gioco vedo che prova a saltare così come Bastoni pallone che rimane lì pallone che viene allontanato e vediamo cosa succede che c'è una rimessa laterale in favore degli azzurri Daniele Fortuna che abbandona la postazione che ringraziamo perché va ad occuparsi delle interviste che andrà a realizzare tra pochi minuti c'è Verratti in possesso di sfera superato a linea di metà campo servito a sinistra Emerson il pallone deve andare in era di rigore ci arriva adesso c'è un colpo di testa per Pellegrini viene anticipato poi Florenzi poi il tiro con fusione la palla che finisce di Gio Pedro fuori di un centimetro e non c'è nulla da fare c'è anche una posizione forse di fuorigioco e ci sarà anche il calcio di punizione in favore della Macedonia del Nord si è concluso il quinto ed ultimo minuto di recupero la morale è che incredibilmente questa squadra dopo due rigori sbagliati contro la Svizzera che avrebbero potuto darci la comoda qualificazione che meritavamo già nel girone adesso in questa partita contro la Macedonia del Nord usciamo e usciamo perché non siamo riusciti a segnare un gol è finita l'Italia non va al mondiale di Qatar 2022 i campioni d'Europa falliscono ancora una volta l'aggancio con la competizione iridata provano a consolarsi in mezzo al campo tutti c'è disperazione gentili ascoltatori per quanto accaduto c'è disperazione soprattutto per un tiro riuscito a tarcolti chissà come dall'altezza dei 25 metri con il pallone che è finito alle spalle di Gigio Donnarumma è l'epilogo peggiore che potessimo immaginare con l'Italia fuori dal mondiale dopo la grande gioia dell'europeo dopo la finale di Wembley dopo quei calci di rigore che ci hanno dato la possibilità di diventare campioni d'Europa arriva una beffa atroce arriva un dolore sicuramente insopportabile arriva quest'altra eliminazione e con l'Italia campione d'Europa che non parteciperà al campionato del mondo dopo una partita drammatica vinta dalla Macedonia per 1 a 0 Macedonia del Nord dal gol al 47esimo del secondo tempo con Tarkovski peraltro un ex di questa città di questa squadra delle Palermo pallone nell'angolino nulla da fare per Gigio Donnarumma la tragedia è compiuta rimane veramente poco da dire una tragedia sportiva ovviamente perché le tragedie sono ben altre ma è ovviamente con una grande mestizia che concludiamo questa nostra radiocronaca salutando l'arrivo al mondiale della Macedonia del Nord ci toccherà stare lontani per la seconda volta consecutiva da un mondiale l'Italia che di mondiale ne ha 24 34 38 1982 2006 i fasti della notte di Berlino sono veramente remoti e lontanissimi dobbiamo digerire quest'altra chiamiamola per cui il suo nome con il suo nome quest'altra umiliazione è finita qui gentili ascoltatori l'avventura italiana della nazionale campione d'Europa nella sua corsa verso Qatar 2022 l'Italia che non va al mondiale vince la Macedonia per 1 a 0 la rete al 47esimo del secondo tempo di Tarkovsky a me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Mariano Zuccaro e la collega Foroni non resta che ringraziare anche il tanto a noi impostazione cronaca per i suoi più che puntuali interventi Daniele Fortuna da Palermo è veramente tutto la Macedonia del Nord ha battuto l'Italia per 1 a 0 siamo fuori dal mondiale a tutti gli ascoltatori l'augurio di una serena per quanto possa restare serena questa notte sportiva di calcio la linea torna a Roma grazie a tutti